Si dovrà aspettare un'altra settimana fino al 19 di gennaio per conoscere le decisioni della Corte Costituzionale in merito all'ammissibilità dai quesiti referendari promossi da dieci regioni tra cui anche l'Abruzzo contro la ricerca e perforazione petrolifera nel mare Adriatico. I sei quesiti iniziali già ridotti dall'intervento della legge di stabilità che ha sanato molti dei punti su cui ruotavano i quesiti abrogativi sono già passati sotto un primo vaglio di legittimità da parte della Corte di Cassazione che le aveva accolti. La Cassazione ha poi dovuto nuovamente esprimersi lasciando attivo un solo quesito referendario. Il rinvio della Camera di Consiglio e dei giudici costituzionali è stato deciso per consentire ai legali di rivedere e depositare le memorie rispetto alla pronuncia della Suprema Corte. Intanto continua il botte e risposta a distanza tra ministero, regioni e ambientalisti. Il ministro Guidi ha rassicurato che in Adriatico non è stata autorizzata alcuna trivellazione. Dall'altra parte sono già sei le regioni che hanno firmato la procura per sollevare il conflitto di attribuzione in Corte Costituzionale, Basilicata, Veneto, Puglia, Marche, Liguria e Sardegna. Nel frattempo si fanno sentire anche i coordinamenti ambientalisti, non Brina, Trivelle Zero Marche e Trivelle Zero Molise, che si schierano contro il permesso di ricerca rilasciato davanti alle Tremiti e a Termoli alla PetroCeltic e dicono è solo un assaggio amaro del Far West che si sta per scatenare con decine di titoli minerari già rilasciati e per questo gli ambientalisti chiedono una moratoria immediata.